Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Harold Frederick Shipman è chiamato anche il Dottor Morte ed è considerato uno dei serial più prolifici del Regno Unito per il numero sorprendente di vittime uccise, inoltre quello emerso durante il processo, ma questa è solo una piccola anticipazione. Proseguiamo con ordine. Nasce il 14 gennaio 1946. La sua famiglia di classe operaia vive a Nottingham, nella contia di Nottinghamshire, in Inghilterra. Harold Frederick Shipman Senior, quindi suo padre, lavora come camionista mentre sua madre si chiama Vera Brittan e fa la casalinga. Harold Frederick, detto Fred, ha due fratelli. Lui è il secondo genito. Pauline, l'unica femmina, ha sette anni più di lui, mentre Clive ne ha quattro in meno. L'infanzia di Fred non trascorre nella tranquillità. Sua madre contrae un'influenza così debilitante che protrarrà le sue conseguenze anche negli anni successivi. Vera impedisce a Fred di frequentare i coetanei, ma le motivazioni di tale scelta vanno al di là della sua salute cagionevole. Sua madre ha un carattere prepotente e non vuole che Fred si mischi con dei ragazzi che non considera l'altezza del figlio, ritenendo che lui abbia un'intelligenza superiore. Vera, dunque, reputa la propria famiglia come la migliore e nello specifico rivela in maniera esplicita chi è il suo figlio preferito. È vera che decide con chi Fred di debba giocare e in che modo possa distinguersi dagli altri ragazzi della zona. È l'unico figlio a cui viene sempre fatto indossare la cravatta, mentre gli altri due possono vestire abiti più casual. Da ragazzino, in effetti, Fred viene considerato uno studente intelligente. Tuttavia, crescendo la sua voglia di studiare e la sua curiosità diminuiscono. Quando inizia a frequentare il liceo, infatti, i suoi risultati sono piuttosto mediocri. Dovrà anche ripetere più volte i test di ammissione all'Università di Medicina. Diventare uno studente di questa facoltà sarà una specie di lotta per lui. Quanto allo sport, la maggior parte dei suoi coetanei lo considera un atleta di talento. Fred è molto capace sia nel football che nell'atletica reggera. Ciò nonostante, continua a non avere molti amici, magari proprio perché è cresciuto sentendosi ripetere che è migliore di tutti gli altri. E lui ne è certo, è davvero il migliore. Fred, quindi, mostra un'area di superiorità che induce i suoi coetanei a mantenersi a distanza. In pratica, è il suo stesso modo di agire che lo barrica nell'isolamento. Quando Fred ha 17 anni, a sua madre viene diagnosticato un cancro terminale ai polmoni, di conseguenza la sua salute peggiora drasticamente. Il figlio cerca di starle vicino il più possibile, soprattutto durante gli ultimi giorni di vita. Sebbene Fred continui a frequentare la scuola tutti i giorni, appena le lezioni finiscono, torna subito a casa per prendersi cura dei bisogni di sua madre. Le prepara una tazza di tè e le racconta la sua giornata. Dall'altra parte, anche Vera, da quando Fred esce di casa al mattino per andare a scuola, conta i minuti che mancano al suo rientro. Prova infatti particolare conforto quando il suo figlio, prediletto, è accanto a lei. Tuttavia, Vera è in balia della malattia e della sofferenza che questa le provoca. Tra l'altro, a quel tempo era complicato trovare delle medicine che alleviassero il dolore. Gli hospice, ossia le strutture sanitarie destinate a ospitare malati terminali o comunque affetti da patologie inguaribili in fase avanzata, praticando la terapia del dolore, non erano così diffusi. Pertanto, l'unico sollievo di Vera dalla sofferenza insopportabile causata dal cancro, proviene dal farmaco che il medico di famiglia può somministrarle, ossia la morfina. Durante questo periodo, le persone vicine alla famiglia Shipman affermano che Fred resta parecchio affascinato dall'effetto che la medicina produce su sua madre. Gli sembra che il dolore di Vera svanisca miracolosamente ogni volta che il medico le inietta la morfina. Purtroppo, l'amore che Fred nutre per sua mamma e tutti gli sforzi messi in atto per tentare di migliorare le sue condizioni non possono salvarla. La sua battaglia contro il cancro termina il 21 giugno 1963. Con la morte di Vera, Freddy avverte un vuoto enorme nella sua vita. L'unica persona che lo faceva sentire speciale, il migliore, non c'è più. Due anni dopo la scomparsa della madre, Freddy viene finalmente ammesso all'Università di Medicina di Leeds. Da questo momento la sua convinzione di essere superiore rispetto a coloro che lo circondano non va di pari passo con i voti che consegue. Sono infatti appena sufficienti per consentirgli di laurearsi ed essere accettato in un programma di tirocinio annesso al percorso. Più in là, nel tempo, quando ai suoi insegnanti delle facoltà di medicina e ai suoi ex compagni universitari verrà chiesto di lui, quasi tutti ricorderanno a malapena chi fosse. A qualcuno torneranno in mente soltanto le sue occhiate dall'alto in basso, espressioni di un disprezzo costante. Uno di questi vecchi compagni di corso affermerà, era come se ci tollerasse. Se qualcuno raccontava una barzelletta, Fred sorrideva pazientemente, ma non voleva mai partecipare. Per tutti i suoi coetanei, dunque, Freddy è soltanto un ragazzo solitario. Eppure, dopo la morte di Vera, qualcuno aveva notato che Fred era diventato un po' più socievole. Ciò nonostante, non aveva mai avuto una ragazza, così quando partecipava alle feste organizzate dalla scuola, si faceva accompagnare da sua sorella, maggiore Pauline. Dopo due anni dalla morte di Vera, oltre ad accedere finalmente all'università, Freddy conosce anche l'amore quando incontra Primrose May Oxtoby. I due, dopo essersi frequentati, si sposano presto, Freddy ha 20 anni, mentre Primrose soltanto 17. La coppia sembra avere molte cose in comune. Tra l'altro, come Vera con Freddy, anche la madre di Primrose esercita un rigido controllo sulla vita della figlia, sulle attività a cui si dedica e sugli amici che le è permesso frequentare. Il giorno del matrimonio, il 5 novembre 1966, Primrose è già incinta di 5 mesi. Dopo le nozze, Fred continua a frequentare la facoltà di medicina, fino a quando non consegue la laurea. Nel 1974, lui e Primrose hanno altri due figli, in totale ne metteranno al mondo quattro. Fred, che ora è diventato il dottor Shipman, lavora presso uno studio medico a Tudmoden, nel West Yorkshire. Quando la famiglia Shipman si trasferisce nella città di Hyde, nella contea di Greater Manchester, Fred sembra trasformarsi in un uomo diverso. Viene assunto come medico di base e diventa un membro della comunità, estroverso e rispettato, sia dai medici con cui lavora, che dai pazienti di cui si prende cura. Tuttavia, anche in questo caso, ci sono alcuni membri dello staff medico che lo descrivono in modo totalmente diverso. Percepiscono che il nuovo dottore li guarda come se fossero degli sciocchi e hanno il terrore che li insulti. In effetti, il dottor Shipman conserva il suo atteggiamento ostile e, quando ci sono delle discussioni in corso, sminuisce gli altri per metterli in imbarazzo. Inoltre, la maggior parte degli scontri vengono estigati proprio da Shipman. In lui spicca la presunzione, un tratto distintivo che in molti ricorderanno anche anni dopo che lui aveva lasciato lo studio. Il dottor Shipman deve sempre assicurarsi che tutto venga eseguito così come lui richiede, anche se nella struttura in cui lavora ci sono altri medici più esperti, ma lui crede di poterla gestire interamente. Che sia un maniaco del controllo è evidente a tutti, anche se il medico non ha ancora compiuto nemmeno 30 anni. Nonostante le opinioni divergenti delle persone che lavorano a stretto contatto con Shipman, i soci senior della struttura lo ritengono davvero straordinario. Uno di loro, il dottor Michael Greve, apprezza molto il fatto che Shipman si assicuri di fornire a tutti i suoi superiori informazioni accurate e aggiornate in qualsiasi momento. Ma dopo un po' qualcosa sconvolge la routine del medico. Inizia ad accusare dei blackout di memoria. A fronte di questi disturbi, pur evitando di licenziarsi, Shipman è costretta ad allontanarsi dallo studio. Riferisce di aver bisogno di un periodo di tranquillità per riprendersi perché gli è stata diagnosticata l'epilessia. Si serve quindi di questa bugia per nascondere ciò che gli sta accadendo realmente, ma presto emerge qualcosa che non va. Ad accorgersene è Linda Reynolds, la receptionist della struttura che si imbatti in alcune voci allarmanti riportate nel registro dei farmaci. Da queste risulta che il dottor Shipman stava prescrivendo molta petidina, un farmaco pioide analgesico che veniva ampiamente utilizzato su pazienti di vario tipo in Europa e in Australia. Sebbene la petidina sia ancora tecnicamente disponibile oggi, la maggior parte dei medici è solita prescrivere farmaci oppiacei alternativi più sicuri. Tuttavia nessun medico la prescriveva per un uso continuo, somministrandola come trattamento per il dolore cronico. Invece le prescrizioni collegate a Shipman riguardavano dosi elevate e richieste frequenti per conto della clinica per carità. È vero che la struttura poteva richiedere una scorta di tali medicinali per gestire le situazioni di emergenza, ma la quantità in questione è davvero eccessiva. Dunque, quando l'Inda fa questa scoperta nel 1975, il dottor John Descartes avvia un'indagine sull'operato del dottor Shipman. Proprio così che la maggior parte dei pazienti per i quali erano state scritte le prescrizioni non avevano mai richiesto il farmaco. Infatti, neanche avevano mai ricevuto tali medicinali, capace di creare dipendenza. Con tutte queste informazioni a disposizione, il dottor Descartes sceglie di affrontare Shipman durante una riunione del personale. Gli mostra le prove raccolte e gli chiede di fornire una spiegazione valida. Piuttosto che comportarsi come un adulto pagando le conseguenze delle proprie azioni, Shipman sceglie di dimostrare il tipo di persona che è davvero. Da prima, consapevole che la sua carriera è in pericolo, si presenta al colloquio chiedendo scusa e prega di essere perdonato per ottenere un'altra possibilità. Ma quando si rende conto che questo atteggiamento è infruttuoso, lo cambia drasticamente, si infuria e si alza per precipitarsi fuori dalla stanza. Pensate che mentre si allontana, afferra la valigetta e la scaglia a terra, minacciando di dimettersi. Solo a me sembrano in capricci di un ragazzino che potrebbe frequentare le medie, fatemelo sapere. I colleghi di Shipman non avevano mai assistito a sfuriate simili da parte sua, fino a questo momento. E al termine della scenata, infatti, ne discutono a fondo, ponderando se sia il caso di estromettere Shipman definitivamente. A questo punto Primrose, che aveva accompagnato il marito alla riunione, entra nella stanza per informare tutti i presenti che lui non si dimetterà mai di sua spontanea volontà. Insomma, se vogliono allontanarlo è necessario che lo licensino, ed è esattamente ciò che accade. I dottori lo obbligano a lasciare lo studio e allo stesso tempo si assicurano che si recchi direttamente in una struttura di riabilitazione a York. Perché, come emerso dalle indagini, Shipman aveva richiesto quei farmaci per assumerli in maniera incontrollata. Sì, ne aveva ordinati così tanti non per somministrarli ai pazienti, ma per sottrarli e farne un uso personale. Nel 1977, cioè due anni dopo, a seguito di una condanna legata a numerose accuse di frode e contraffazione, Shipman viene multato. Tuttavia, la sanzione prevista dal tribunale è minima anche per gli standard odierni. Ammonta infatti a poco più di 600 sterline. Una punizione blanda, considerando la maggior parte delle azioni compiute dal dottore, un medico autorizzato che aveva abusato del potere conferitogli dalla sua posizione per prolungare e soddisfare la propria dipendenza. L'appropriazione indebita di farmaci avrebbe piuttosto dovuto rappresentare un valido motivo per revocare la sua licenza medica. Questa è stata la prima occasione che le autorità competenti hanno avuto per fermarlo, ma non l'hanno fatto. Alcuni attribuiscono le gesta irresponsabili e sfacciate di Shipman compiute in quegli anni a una semplice mancanza di giudizio da parte sua. Altri, invece, le addossano alla sua incontrollabile arroganza. Dunque, il dottore che nel 1977 afferma di aver falsificato le prescrizioni e di aver acquisito fraudolentemente i farmaci a causa della sua tossica dipendenza, appena due anni dopo, riprende a praticare il mestiere di medico generico. C'è da ammettere, il dottor Shipman ha molta fiducia in se stesso e sa infonderla negli altri. Ecco perché riesce a convincere chi lo esamina della sua sincerità quando fa domande per lavorare in una nuova clinica. Il personale addetto alle assunzioni di un altro centro medico di Hyde accetta così le sue spiegazioni e crede nel cambiamento che Shipman professa. Lui propone anche un periodo di prova agli esaminatori, così da alleviare le loro ansie riguardo ai suoi comportamenti passati. Il centro medico accetta le sue condizioni e le assume come medico con supervisione. Il dottor Jeffrey Moisey in seguito difenderà questa decisione affermando che Shipman aveva ammesso di aver avuto un problema con dei farmaci che creano dipendenza. Aveva raccontato delle condanne ricevute, ma anche di aver completato un programma di riabilitazione e di essere quindi pulito. Ora che Shipman è stato assunto vuole dimostrare di essere un uomo diverso, molto laborioso e dedito al suo lavoro, disposto a farsi avanti come medico locale per dare sempre il proprio contributo, affinché la sua nuova comunità diventi un posto migliore. La verità è un'altra. Shipman sa come parlare e come muoversi, ecco perché i nuovi pazienti e gli altri dottori con cui lavora iniziano a rispettarlo. Tuttavia i membri del personale che supervisionano il dottore lo definiscono talvolta condiscendente, ma altre volte anche offensivo nei loro confronti. Mentre lavora in questa nuova clinica, Shipman non ha ulteriori episodi di blackout e non manifesta segnali che possano destare preoccupazione. Infatti i suoi superiori sono convinti che non abbia davvero più problemi con la dipendenza già accusata. Ora dovete sapere che nel caso specifico dei pazienti defunti per cui si fa richiesta di cremazione, la legge britannica prevede che un medico di un'entità sanitaria separata firmi i moduli appositi rilasciati dal medico originale. Una pratica che i dottori hanno soprannominato Cash for Ash. È proprio in nome di questa legge che la dottoressa Susan Both si reca all'impresa di pompe funebri di Frank Massey e figli. Deve esaminare uno dei pazienti deceduti del dottor Shipman. È a questo punto che Deborah Massey le si avvicina per esprimere le sue preoccupazioni riguardo al medico in questione, simili a quelle di suo padre. Entrambi hanno notato che c'è qualcosa di strano, un alto tasso di mortalità tra i pazienti del dottor Shipman. Il gran numero di moduli di cremazione che devono essere controfirmati fa riferimento a donne anziane. In pratica Deborah e suo padre Frank sospettano che Shipman stia per negligenza o intenzionalmente uccidendo le sue pazienti. La maggior parte dei cadaveri erano completamente vestiti e di solito si trovavano in posizione seduta o sdraiata su un divano. Anche la dottoressa Both è inquietata dalla situazione, così viene contattato il coroner locale. Dopo che il coroner riceve la chiamata informa immediatamente le autorità, riportando ciò che gli era stato comunicato. Le autorità a loro volta avviano un'indagine segreta durante la quale esaminano i registri di Shipman. Eppure quando l'indagine viene completata tutto risulta in ordine. La documentazione del dottore riguardante i trattamenti da lui prescritti e le successive morti dei pazienti è in regola. O almeno così appare. Ma quando una delle pazienti di Shipman, Kathleen Groundy, una donna benestante ed ex sindaco di Hyde, muore improvvisamente il 24 giugno 1998, più persone si insospettiscono. Kathleen, sebbene avesse 81 anni, sembrava sempre piena di energia. Era coinvolta in tutte le associazioni di beneficenza locali, impegnata attivamente, fino a quando ha avuto un fatidico incontro con il dottor Shipman. Gli amici di Kathleen intuiscono che qualcosa non va. Il giorno in cui lei non si presenta all'appuntamento per aiutare a servire dei pasti a degli anziani. Dato che Kathleen è nota per essere affidabile e puntuale, decidono di andare a controllare che stia bene. Quando arrivano a casa di Kathleen e la trovano sdraiata sul divano, le amiche rimangono scioccate. La donna è completamente vestita come se fosse quasi pronta per uscire, ma il suo corpo è privo di vita. La prima telefonata chiaramente viene fatta al suo medico, Harold Shipman. Il dottore è stato a casa di Kathleen poche ore prima ed è l'unico ad averla vista in vita. Quando le donne lo chiamano, il Shipman afferma di essere andato da lei per acquisire alcuni campioni di sangue col fine di eseguire dei test di routine. Il dottore torna rapidamente nella sua abitazione per dichiarare che Kathleen è morta. Chiaramente anche Angela, la figlia di Kathleen, viene informata dell'accaduto. Il medico riesce a convincerla che non c'è motivo di fare un'autopsia, poiché aveva visto la donna appena un paio d'ore prima della sua morte. Angela consente e un paio di giorni dopo si tiene il funerale di Kathleen. Quasi subito dopo la funzione Angela riceve una strana telefonata dagli avvocati di sua madre che le comunicano di avere una copia delle sue ultime volontà e del testamento. La notizia insospettisce Angela perché sua madre aveva sempre usato il suo studio legale per gestire i propri affari. E in effetti è lo studio di Angela ad avere la copia originale del testamento che Kathleen aveva redatto nel 1986. Così Angela chiede a quest'altro avvocato di inviarle una copia del documento che afferma di avere. Quando visiona il testamento in questione Angela capisce immediatamente che si tratta di un falso. Il nuovo testamento stabilisce che il dottor Harold Shipman avrebbe ricevuto una donazione di 386.000 sterline. Tuttavia persino con il documento contraffatto in mano Angela a primo impatto si convince che qualcuno voglia incastrare il buon dottor Shipman. Ben presto intuisce che molto probabilmente è lui il responsabile della morte di sua madre. Il passo successivo nella sua indagine personale è quello di informare le autorità. Così i suoi fascicoli finiscono sulla scrivania del sovrintendente investigativo. Anche lui chiaramente studiando il documento in questione capisce all'istante che si tratta di un falso. Gli investigatori se vogliono trovare le prove del fatto che quel dottore tanto rispettato dalla comunità stia uccidendo i suoi pazienti devono necessariamente effettuare tutte le autopsie affinché un medico legale possa eseguire le procedure richieste bisogna riesumare le salme a cominciare da quella di Caitlin. Nel corso delle indagini i funzionari delle forze dell'ordine stabiliscono che 15 dei pazienti del dottor Shipman potrebbero essere stati assassinati da lui. Di questi 15 pazienti soltanto 9 erano stati seppelliti mentre gli altri 6 erano stati cremati. Gli investigatori devono anche perquisire la casa del dottore Hyde per ottenere qualsiasi prova che lo colleghi ai decessi sospetti incriminandolo. Il tempismo dell'incursione risulta fondamentale. Se Shipman venisse a conoscenza delle esumazioni prima della perquisizione potrebbe distruggere o nascondere prove concrete a sostegno delle accuse. Tuttavia quando le autorità arrivano alla porta della sua residenza per fare irruzione Shipman non sembra affatto sorpreso della visita. Piuttosto come al solito assume un atteggiamento arrogante che svela il suo disprezzo anche per gli inquirenti. Mentre le autorità perquisiscono la residenza di Shipman trovano diversi oggetti interessanti. Innanzitutto la casa del medico è parecchio sporca ci sono mucchi di vestiti da lavare vecchi giornali sparpagliati qua e là. Gli oggetti incriminati che gli inquirenti raccolgono come prove includono alcune delle cartelle cliniche redate dal medico e parecchi gioielli come anelli, bracciali, orecchini e collane trovati nella camera da letto e che non sembrano appartenere a sua moglie Primrose. Tuttavia la prova più consistente è una macchina da scrivere portatile che i test effettuati successivamente indicheranno come quella utilizzata per redigere il testamento contraffatto, quello che aveva dato il via all'indagine. Non appena il medico nota che le autorità stanno impacchettando la macchina da scrivere, inventa una scusa su come Kathleen la prendesse spesso in prestito per uso personale. Una tossicologa intanto è stata incaricata di testare i campioni di tessuto raccolti dall'autopsia eseguita proprio sui resti di Kathleen. Quando gli investigatori ricevono il suo rapporto reagiscono allarmandosi. I test rilevano una quantità significativa di morfina nell'organismo della defunta. I livelli riscontrati fanno ipotizzare che Kathleen sia morta meno di tre ore dopo che Shipman le aveva somministrato l'iniezione letale. Per gli investigatori la scelta di Shipman di ricorrere alla morfina come arma per uccidere le sue vittime è piuttosto avventata soprattutto perché lui è un medico autorizzato. Inoltre tutti i dottori sanno che la morfina è uno dei pochi farmaci che rimangono a lungo nei tessuti del corpo. Pertanto di certo i test avrebbero rilevato la sua presenza nei pazienti defunti a meno che i loro cadaveri non venissero cremati. Con il suo background formativo è più che probabile che Shipman avesse questa conoscenza. Dunque per chi aveva scelto questo opioide come metodo di uccisione? Quando Shipman viene portato alla stazione di polizia e interrogato sul livello di morfina rinvenuto nell'organismo della sua paziente lui afferma che Kathleen aveva una dipendenza. Era lei che chiedeva al dottore di prescriverle la morfina per uso ricreativo. La risposta del medico non fa che generare ulteriori dubbi negli investigatori spingendoli ad approfondire gli altri decessi dei suoi pazienti. Bisogna determinare se la morfina è causa anche della loro dipartita. L'arrogante dottore forse pensava che aggiudicarsi la reputazione di trafficante di opiacei nella zona fosse un male minore. Magari credeva che confessando di aver fornito della morfina a pazienti tossicondipendenti lo avrebbero preso in parola. Sperava che non avrebbero indagato ulteriormente per assicurarsi che non avesse iniettato lui stesso quei farmaci e i suoi pazienti? In questo caso l'arroganza che ha sempre dimostrato supererebbe di gran lunga la sua intelligenza. Per la fase successiva delle indagini gli investigatori devono decidere su quali corpi dei pazienti deceduti eseguire l'autopsia. Devono eliminare dalla scelta quelli cui resti sono stati cremati e partire dai pazienti di Shipman che sono deceduti imprevisamente proprio in seguito a una delle visite domiciliari del medico. Un cavilloso ostacolo da affrontare è il processo di acquisizione degli ordini di riesumazione dal tribunale. Nel frattempo gli investigatori sviluppano dei criteri per indagare anche sui pazienti che erano stati cremati. Non vogliono che il dottore la faccia franca. Quindi ogni omicidio deve venire a galla indipendentemente dal fatto che i resti dei defunti possano essere testati o meno. I criteri elaborati partono dal fornire una risposta a questi quesiti. Quale condizione preesistente aveva il paziente? Quale causa di morte del paziente è stata documentata? Qual era lo scopo della visita a domicilio di Shipman prima della sua morte? Durante questa fase dell'indagine gli investigatori stabiliscono che quando un paziente moriva Shipman attuava una tattica. Parlando con i familiari dei defunti faceva del suo meglio per convincerli a rinunciare all'autopsia e li spronava a far cremare il loro caro. Poiché la maggior parte delle persone si fida dei propri medici non è strano che i familiari dei pazienti di Shipman abbiano seguito i suoi consigli nonostante fossero un po' pressanti. Tra l'altro quando il medico discuteva della causa della morte faceva apparire il suo suggerimento come l'unica opzione razionale. La maggior parte dei familiari finiva con l'essere d'accordo. Non potevano immaginare che i loro cari fossero stati messi in una condizione che aveva causato la loro prematura morte. Nelle rare occasioni in cui un membro della famiglia del defunto dubitava della dichiarazione del medico Shipman non veniva certo preso in contropiede. Era pronto a fornire le cartelle cliniche computerizzate che avrebbero confermato le sue affermazioni. Quando i tecnici analizzano il computer di Shipman scoprono però che aveva alterato i registri di ogni paziente che aveva ucciso. La maggior parte dei documenti l'aveva modificata a pochi istanti dopo la morte dei pazienti. Subito dopo aver somministrato l'iniezione letale Shipman tornava di corsa nel suo ufficio o a casa e correggeva i registri assicurandosi di retrodatare tutte le voci. Lo aveva fatto anche con i documenti di Kathleen per sostenere le proprie affermazioni secondo cui lei era una dipendente della morfina. Quando Shipman era diventato medico la tecnologia informatica stava compiendo i primi passi anche nel campo medico. Lui in un certo senso si era lamentato dell'avvento dei computer ma una volta entrato in contatto con la nuova tecnologia era diventato rapidamente un esperto apprezzandone il funzionamento. Nonostante l'esperienza sviluppata a Shipman però non si era reso conto che il disco rigido di ogni computer esistente è in grado di dettagliare fino al secondo ogni volta che viene apportata una modifica a un documento, file o registrazione che sia. I suoi computer infatti avevano traccia di ogni modifica effettuata per falsificare le sue cartelle cliniche. Gli investigatori chiaramente lo interrogano più volte a riguardo anche se Shipman risponde sempre in modo evasivo. Il dottore insomma ribadisce che se i documenti indicavano che il paziente soffriva di un disturbo specifico ne soffriva e basta. Fine della storia. Basta. Non c'è nient'altro da aggiungere. La sua ormai nota arroganza che lo ha contraddistinto per tutta la vita perdura fino all'inizio del suo processo il 5 ottobre 1999. L'avvocatessa che difende il medico si era occupata quasi soltanto di questioni estrane ai tribunali penali. Pertanto questo processo per omicidio è un territorio inesplorato per lei. Durante il procedimento preliminare nonostante faccia del suo meglio per convincere il tribunale a cambiare il modo in cui sono state presentate le accuse contro il suo cliente i suoi sforzi non hanno successo. Per ogni mozione che l'avvocatessa presenta l'accusa espone una contro argomentazione che spiega nel dettaglio perché la corte dovrebbe pronunciarsi a loro favore. La mozione più sconcertante avanzata dall'avvocatessa è quella in cui chiede al tribunale di respingere le prove in particolare il volume 8 che per lei va dichiarato inammissibile. Invece proprio il volume 8 rappresenta la prova più significativa dell'accusa che contiene i seguenti dettagli. Innanzitutto le prove che dimostrano come Shipman avesse somministrato morfina a più di 28 pazienti, la maggior parte dei ceduti. Emerge poi che prescriveva anche diamorfina. Si evidenzia pure come Shipman aveva continuato a prescrivere farmaci ai pazienti per i quali aveva firmato certificati di morte. Infine se ne ricava anche l'informazione più schiacciante cioè le prove che mostravano che Shipman aveva prescritto piacei a molti pazienti che erano in perfetta salute. Dunque non avevano mai avuto bisogno di antidolorifici in generale tanto meno di uno potente come la morfina. In ogni caso dopo che l'avvocatessa espone le sue argomentazioni l'onorevole giudice sceglie con cura le parole da pronunciare. Guarda l'avvocatessa e il Shipman e spiega esattamente perché avrebbe negato ogni singola richiesta. Il giudice infine annuncia alla corte che il processo proseguirà con le 16 accuse a carico di Shipman. Inoltre il volume 8 viene inserito come prova e il lunedì successivo viene selezionata la giuria. Durante il processo il procuratore capo argomenta rapidamente il modo in cui i pazienti di Shipman sono morti a causa della prescrizione e della somministrazione di morfina o diamorfina. Il medico aveva iniettato il farmaco alle vittime poco dopo il suo arrivo per una visita nelle loro case. Il procuratore inoltre respinge anche l'idea che Shipman possa essere un assassino misericordioso e qui ora vi spiego che cosa intendo. La cronaca ci racconta di alcuni serial medici e infermieri che hanno dichiarato di agire unicamente per alleviare le sofferenze delle persone che avevano in cura ma il procuratore sottolinea ai giurati che nessuna delle vittime del medico era mai stata malata terminale. Condizione che forse avrebbe potuto motivare la somministrazione dei farmaci in questione ma non in quelle quantità. Inoltre offre un movente alternativo alla base dei gesti del medico. Shipman aveva ucciso alcuni pazienti per dimostrare che lui e solo lui aveva il controllo su chi viveva e chi moriva. Considerando quante volte aveva ammazzato delle persone in quel modo era anche evidente che provava piacere in ciò che faceva e che non era intenzionato a fermarsi. L'inizio del processo si concentra sull'omicidio di Kathleen. Anche se l'avvocatessa formula diverse affermazioni per conto del suo cliente il procuratore la smentisce rapidamente. Quando Angela prende la parola spiga quanto fosse rimasta scioccata nell'apprendere che sua madre era morta così all'improvviso. L'accusa allora pone particolare enfasi sul falso testamento con cui la vittima avrebbe donato il suo intero patrimonio a Shipman. A sostegno della tesi il procuratore chiama al banco dei testimoni il dottor Rutherford, un esperto di impronte digitali. L'esperto fa sapere alla giuria che sul documento in questione sono state scoperte tre serie di impronte digitali corrispondenti proprio a quelle dei due testimoni nominati sul documento e dello stesso dottor Shipman. Ciò che dimostra dimostra che Kathleen non aveva redatto il testamento poiché le sue impronte digitali non si rivelano da nessuna parte. Successivamente il procuratore affronta la questione dei record informatici falsificati. Il suo perito è in grado di dimostrare esattamente quando i file erano stati alterati. L'accusa decide poi di chiamare dei testimoni che possano parlare di come si era comportato Shipman dopo aver capito che sarebbe stato arrestato. Queste persone affermano che il medico non aveva mostrato alcun rimorso per le sue azioni, come se non provasse nessuna emozione. In effetti il dottore si comporta come se non avesse fatto nulla di sbagliato, eccetto non assicurarsi della cremazione di Kathleen. La parte rimanente del processo si è concentrata sui restanti 14 pazienti che Shipman aveva ucciso con l'obiettivo di convincere la giuria, che è innegabile grazie alle prove schiaccianti raccolte, che Shipman aveva ucciso Kathleen. La sua motivazione per aver commesso l'omicidio indica uno scopo di lucro. Anche se le prove contro di lui non sono così solide nell'incriminarlo per gli omicidi delle restanti 14 vittime, sembra che Shipman abbia messo in atto uno schema. Alla morte di ogni paziente il medico prendeva il telefono e faceva finta di fare una chiamata davanti ai parenti, che non erano ancora a conoscenza dell'avvenuto decesso del loro familiare. Shipman simulava un breve colloquio con i servizi di emergenza in cui chiedeva di mandare un'ambulanza all'indirizzo da lui indicato. Pochi minuti dopo aver riattaccato il telefono comunicava ai parenti che il loro caro era deceduto, poi effettuava un'altra finta chiamata per annullare la richiesta dell'ambulanza. Tuttavia il procuratore è in grado di mostrare i tabulati telefonici per ciascuna linea che Shipman aveva finto di utilizzare per effettuare le chiamate. E questi tabulati infatti contraddicono le sue parole. Ogni record indica che nessuna telefonata di questo tipo era mai stata effettuata dalla linea telefonica in questione. I testimoni vengono anche chiamati al banco per parlare del comportamento insensibile di Shipman nei confronti dei familiari dei suoi pazienti deceduti e dei defunti stessi. Pensate che era addirittura solito prendere in giro i parenti spingendoli a indovinare come era morto il loro caro e dovevano riferirlo ad alta voce. Dopo che la giuria ascolta tutte le prove presentate da entrambe le parti, il giudice impiega ben due settimane per dar loro istruzioni. In particolare riflette sul fatto che nessuno dei testimoni intervenuti ha dichiarato di aver visto fisicamente Shipman somministrare delle dosi letali di morfina alle vittime. Il 31 gennaio del 2000 la giuria torna con il verdetto. Ha deciso all'unanimità che Harold Frederick Shipman è colpevole. Mentre il portavoce della giuria legge alla corte le conclusioni tratte, Shipman rimane impassibile. Ancora una volta non lascia trapelare alcuna emozione. L'avvocatessa di Shipman chiede al tribunale di emettere immediatamente la sentenza e il giudice non esita ad assecondare la sua richiesta. Guarda Shipman dritto negli occhi e gli dice Finalmente sei stato assicurato alla giustizia grazie al verdetto di questa giuria. Non ho alcun dubbio che questo sia un verdetto veritiero. Per me è giunto il momento di emettere una sentenza nei tuoi confronti per questi crimini così malvagi. Ognuna delle tue vittime era una tua paziente. Hai ucciso tutte le tue vittime con una perversione calcolata e a sangue freddo grazie alle tue abilità mediche. Hai usato le tue capacità per scopi malvagi. Hai approfittato e gravemente abusato della loro fiducia. Dopotutto eri il medico di ogni vittima. Ho pochi dubbi sul fatto che ognuna delle tue vittime ti abbia sorriso e ti abbia ringraziato mentre si sottometteva alle tue cure mortali. Dopo aver pronunciato la sentenza il giudice condanna l'imputato a scontare 15 ergastoli. Uno per ogni paziente che ha ucciso con un'iniezione letale di morfina. Oltre alle 15 condanne all'ergastolo Shipman dovrà scontare altri quattro anni per aver falsificato il testamento della sua paziente. Tradizionalmente nei tribunali britannici una volta pronunciata una sentenza di questa portata il giudice scrive al ministro dell'interno specificando le motivazioni della decisione. Tuttavia il giudice nel caso di Shipman agisce diversamente affermando In via ordinaria non parlerei in un'udienza pubblica ma nel tuo caso sono convinto che la giustizia esige che io esprima le mie opinioni e conclusioni di questo processo. La mia raccomandazione sarà che passi il resto dei tuoi giorni in prigione. Nonostante questi sviluppi nessuno conoscerà mai le ragioni più profonde per cui Shipman ha ucciso i suoi pazienti. In movente infatti non è chiaro. Soprattutto perché la posizione del dottore è irremovibile, dirà sempre di essere innocente al 100%. Si ha però certezza che non sono state rilevate tracce di violenza intima associate ai suoi crimini. Tutte le vittime di Shipman sembravano morte pacificamente in un posto in cui si sentivano a proprio agio, al sicuro. Tuttavia ciò non ha impedito ai cospirazionisti e agli investigatori del web di trarre le proprie conclusioni. Ecco alcune delle teorie predominanti che ho raccolto mentre esaminavo le fonti di questo caso. 1. A causa dei suoi commenti sugli anziani che secondo Shipman sono un salasso per il sistema sanitario, alcuni ipotizzano che lui li odiasse particolarmente. 2. Shipman ha ucciso le sue vittime sperando di soddisfare un profondo bisogno masochistico, di ricreare la scena della morte di sua madre più e più volte. 3. Shipman si sentiva superiore a tutti gli altri, tanto che pensava di avere il diritto di fare quello che voleva senza paura di essere scoperto. Dopo il processo il governo britannico ha avviato un'inchiesta ufficiale sul dottor morte, come è stato definito. I risultati pubblicati sono sorprendenti. Riportano che Shipman in realtà avrebbe ucciso almeno 215 pazienti. Le sue vittime sarebbero per la maggior parte donne, 171 contro 44 uomini. Quanto alla fascia di età delle vittime, questa spazierebbe dai 41 ai 93 anni, mentre il lasso di tempo in cui Shipman ha dato sfogo alla sua follia omicida sarebbe lungo, ben 23 anni. In aggiunta a questi dati, il professor Richard Baker ha condotto una propria indagine sulla morte dei pazienti di Shipman, finendo col conteggiare un minimo di 236 vittime, nonostante il medico fosse stato condannato soltanto per la morte di 15 persone. Sebbene tutte le prove fattuali indicassero che Shipman era colpevole, lui ha continuato a dichiararsi innocente a ogni occasione. Anche sua moglie Primrose, sposata con lui da 40 anni prima che venisse arrestato, è rimasta fermamente al suo fianco durante il processo e la condanna, sostenendo sempre la sua innocenza. Si ritiene comunque che lei e i figli non avessero idea dei crimini commessi da Harold. Tornando ai risultati ufficiali dell'inchiesta del governo britannico, questi riportano anche i pensieri della giuria riguardo all'innocenza costantemente dichiarata da Shipman. Nei rapporti pubblicati si legge che il dottore era dipendente dall'omicidio, proprio come altri sono dipendenti da sostanze e o alcol. Viene anche sottolineato che Shipman si era divertito parecchio a guardare le sue vittime morire. Il 13 gennaio 2004, il giorno prima che Shipman compisse 58 anni, alle 6 del mattino viene trovato senza vita nella sua cella. Per le famiglie del dottore, l'atto finale con cui si è tolto la vita è apparso come l'ennesimo tradimento. I familiari non potranno mai ottenere quelle risposte che speravano di avere in merito ai crimini commessi da Shipman. Detto questo, ho finito di parlare in questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso qui sotto nei commenti. Sono curiosa di sapere cosa ne pensate di Harold. ovviamente io penso che sia una pessima persona e onestamente quando ho scoperto la totalità degli omicidi sono rimasta un po' scioccata. Non pensavo, ecco, che si fosse arrivata a contare così tante vittime. In ogni caso, io sono curiosa di sapere la vostra opinione, quindi come al solito ci becchiamo qui sotto nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felice. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti.